La casa di Borgo Panigale porta sullo stand di EICMA 2018 la Ducati Multistrada 950 S Model Gear 2019, ovvero la variante rinnovata della sua Tourer di medio-grande cubatura che mantiene il motore bicilindrico testa stretta da 937 cm³, a discapito di quanto dice il nome del modello, in grado di sviluppare 113 CV di potenza e 96 Nm di coppia. Come tutte le Ducati moderne sfruttano piattaforma inerziale a 6 assi IMU, Inertial Measurement Unit, firmata Bosch e dotata di veicolo hold control e ABS cornering. Grande novità al debutto su tutte le Ducati Model Gear 2019. Tutto nuovo anche il forcellone di braccio in alluminio, di nuova concezione. Tutti nuovi anche i cerchi, alleggeriti di circa mezzo chino e nelle misure da 17 pollici al posteriore e da 19 pollici all'anteriore, gommati Pirelli Scorpion Trail 2. Tre, i pacchetti con cui la Ducati Multistrada 950 Model Year 2019 viene proposta, ovvero Touring Pack, Sport Pack e Enduro Pack. Due le colorazioni invece proposte, rosso Ducati proposto sia sulla 950 e sulla 950 S e gloss grey che vediamo qua davanti a noi, proposto invece solo per la versione S. S. Grazie a tutti